Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo secondo episodio di Disney Hercules per PS1. Allora, siamo esattamente dove abbiamo finito nello scorso episodio, c'è ieri quando l'ho registrato, perché la mattina dopo, e... ho ricaricato il save state da qua, perché non volevo mandare avanti la scena, perché sicuramente sarebbe partita qualche sequenza video. Quindi, andiamo avanti da qua. Prima di iniziare, però, voglio ringraziare Ripper, insomma, come sempre, dopo il primo episodio di prova, per il feedback che mi avete rilasciato sotto questo gioco. Vedo che PS1 è una console che piace sempre tanto, mi piacerebbe approfondire molto PS1 in questo periodo, perché ci sono tanti giochi che devo ancora recuperare, e poi va sempre molto presa, è sempre molto bello portare gameplay PS1 sul canale. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è adesso da fare. Aiutatemi, vi prego, c'è stato un terribile incidente! Megafusto! Si parlava di disastri! Megafusto! Ercole! Grazie agli dèi! Cosa c'è? Fuori città, due bambini stavano giocando nella gola, c'è stata una frana, una terribile frana, sono intrappolati! Bambini? Intrappolati? Phil! È fantastico! La notizia ti ha sconvolto, vero? No, io non capisci, io soffro spaventosamente di vertigini! Il canyon di Hydra! Ok, quindi dobbiamo affrontare l'Hydra qui? Molto bene, tra l'altro particolare la scelta di scegliere la pivettica come doppiatrice di Meg, che però non sta neanche male, cioè in realtà ci sta, ci sta. Allora, qui è una boss fight, bisognerà tagliare le teste all'Hydra probabilmente, tanto vedo che quando cadono le rocce ci danno delle monete, quindi questo servirà per raggiungere il 100% del livello probabilmente, accumulando monete raccolte, probabile. Infatti vedete che randomicamente ci danno delle monete, degli oggetti. Andiamo a vedere una roba. Ah, ok. Giusto, eccole! E giustamente si moltiplicano le teste. Ma facciamo attenzione. Ok, quindi semplicemente dobbiamo saltare e attaccare le teste? Probabilmente sì. No, mannaggia la miseria. Non possiamo stare troppo fermi perché altrimenti ci fanno la festa. Ah, troppo tardi. Devo stare di più vicino. Devo farlo sì attaccare ma non allontanarmi troppo. Però vedi che la squadra arriva sempre troppo tardi. Mmm, aspetta un attimo. Non deve essere particolarmente complicato. E infatti allungiamoci un po' la vita. Bellissimo. E qua, man mano che tranciamo teste, continuano a spuntarne delle altre. Ok. Mi ha solo trovare il giusto tempismo. Ma, mannaggia la miseria. La verità è che qua continuano ad arci curativi, quindi siamo sempre abbastanza a posto, eh. Ma, porcaccia la miseria. Mi sto aggrabbiando. Mi sto aggrabbiando. Non deve essere particolarmente complicata questa cosa. Mi sfugge a qualcosa nel tempismo. E più caldo nell'allineamento. Attaccami per cortesia. C'è qualcosa che mi sfugge nell'allineamento della spadata. Come, come nel livello di tutorial. No. C'è qualcosa che non mi quadra nell'allineamento della spadata. Poi devo andare su un'altra testa, perché non vorrei che qua ci siano dei problemi al momento. Ok. Non so perché sarò succedendo quella roba. Uh, e continuano a tirare fuori testa, certo. Tanto, forse non c'è anche bisogno di saltare. Ma semplicemente stare fermi. Spostarsi. E infatti, e infatti. Ok. Facciamo così. Minchia, quanti testi ci sono? Vabbè. Attacca. Ma. Bastardo infame. Mannaggia la miseria. Guardate, metà vita gliel'abbiamo tolta. Fortuntissima idra. Aha. Dai, dai, dai. Ma. Mannaggia la miseria. Non è facile. Cioè, non è facile trovare il punto in cui... Attaccare. Mi stai prendendo seriamente in giro? Dillo, mi stai prendendo in giro. Ok. Ah, non deve essere particolarmente complicata questa roba, eh. Ce la faremo. In realtà non c'è molto da commentare. Non c'è molto da commentare se non riusciamo a colpirla. Ok. E questa l'abbiamo presa. Va bene. In realtà penso che colpire una testa piuttosto che un'altra non faccia grosse differenze. Penso che basti semplicemente colpirne una e tagliarla. Penso. Ok. Sì, infatti. Infatti. Proverete che continuo a darci refill di vita. Quindi in realtà non è particolarmente complicato. Proverete che continuo a darci delle monete. Quindi probabilmente bisognerebbe attendere Beh, intanto è una cosa che stiamo facendo senza volere Attendere prima di sconfiggere l'Hidra Per far cadere tutte le monete che ci servono Per raggiungere il 100% del livello. Probabilmente. Attaccami. Mannaggia la miseria. Eccole, sì, sei tu o tu. Però se non gli tagli la testa, eh... Sto facendo veramente impazzito. Ok. Non era difficile questa roba qua, eh. Era difficile. Però è proprio una questione di prospettiva. Un po' farlocca. Va bene. E' andata. Un po' casuale. Un po' così ma è andata. Tra l'altro chi sa completamente nel livello com'è andato. Tra l'altro. Perché abbiamo preso monete un po' così a casaccio. Hanfrey ne abbiamo presa una. 64% Una mazza. Una mazza. Vabbè ma non è importante. Tra l'altro non so neanche a che punto del gioco sono in questo momento. Potrei essere già oltre la metà in realtà. Previ ammetterlo. È stato un gesto piuttosto eroico. Ce l'hai fatta ragazzo! Ce l'hai fatta! È stata una vittoria schiacciante! Però... Chi l'avrebbe detto? Il covo di Medusa. Tra l'altro questo dovrebbe essere un'altra boss fight. Sì, il gioco diciamo che è una struttura non particolarmente ricercata. Nel senso che è una grande accorzaglia di boss fight. Un po' così. Qualcosa di esplorazione dei livelli ma poca roba. Mi sa che la parte più bella l'abbiamo già vista qua. È Medusa quindi probabilmente... Ah cazzo. Quindi probabilmente bisognerà fare attenzione a stare dietro... A questi pilastri. Ok. Per evitare di farsi colpire dalla tipa. Ti teniamo d'occhio Medusa. Ti teniamo d'occhio Medusa. È finito. Ah ah. Eh ma Ercole se ne sa. Ok. Ovviamente gli si... Attenzione. Qua dovrebbe arrivare tipo... Ok. Dovrebbe aver sparato degli oggetti che dovevano colpirmi ma non l'hanno fatto. Molto bene. Quindi adesso lei è stata colpita... Uh! Si è colpita da sola col suo... Con la sua... Vista laser che in realtà è pietrificante in quanto Medusa. Ok. Ah cazzo. Ah però qua sono scoperto perché non ho altri pilastri. Non ho fatto una bella scelta venendo di qua. Ok. Perfetto. Stiamo qua dietro. Buonanote. Buonanote? Come parla? Ma com'è doppiato? Ok. Attenzione. Dai dai. Vai Medusa. Eccole qua. Le due serpentine. Tutto bene. Non dovrebbe... Anche a te. Stavano anche guardando la vita come era messa. Sì. Ok. Siamo a metà. A metà della boss fight. Vedete che la parte più bella è sicuramente quella esplorativa. Tipo i livelli che abbiamo fatto nella parte scorsa. Però insomma tutto sommato è un gioco che si lascia a giocare abbastanza piacevolmente. Però diciamo questa... Questa... Ammucchiata di boss fight un po' così... Non so se sono un po' fine a se... Se sono un po' un tentativo di ripercorrere la storia del... Attenzione. Ripercorrere la storia del film in maniera un po' sempliciotta. Non è che ne venga fuori niente di troppo figo. Però dai è un gioco che comunque si lascia a guardare e giocare con piacere. Tutto sommato. Attenzione qua. Torniamo indietro. Attenzione. Ok. Anche però non ho più molti pilastri da sfruttare. Stai giù. Benissimo. Prendiamo anche questa. Via, 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 via. Attenzione. Ok. Dovrebbero arrivare... No, mi hanno preso in pieno, cazzo. Ma il doppiatore di... Di Hermes, di Futurama. Sembra. O no? O è una cosa che sembra solo a me, in realtà non è. No, sembra però. Dai. L'ultimo colpo. Ma dai. In realtà abbiamo anche i pugni, non li usiamo mai, eh. Va bene. E... Chi? Buonanotte, brutta faccia. Vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo perdere questo doppiatto un po' così. E quindi anche questa bossetta l'abbiamo fatto. Quindi questo è un effettivo livello come lo era quello di prima. Secondo me, un po' così intuito, la parte più bella l'abbiamo... Ce l'hai fatta, ragazzo! Ce l'hai fatta, è stata una vittoria schiacciata! Ma vorrei ben vedere, 100%. Ma non abbiamo... Abbiamo preso anche tutte le anfore, sì? Figo. Oh. Per una volta? Buono. Facciamo uno scambio. Tu rinunci alla tua forza per circa 24 ore, va bene? Diciamo alle prossime 24 ore. E Meg sarà libera come un uccello. Brindiamo, balliamo e torniamo a casa felici e contenti. Che ne dici? Accetto. Sì! È andato! Ratali! Titali! Titali! Guardatevi nella vostra squallida prigione! Chi vi ha messo in laggiù? Zeus! È ora che vi do la libertà! Qual è la prima cosa? Che farete voi? Ti struscerò! È vero. Sì, eccole chi salverà! Ma... Vercole! Vieni fuori! Affrontami! Che cosa vuoi fare? Senza la tua forza sarai ucciso! Ci sono cose peggiori. Wow! L'attacco del ciclope. Chiaramente in questo momento siamo senza i nostri poteri. Come giusto appunto veniva detto in questa sequenza video. Ok. Ehm... Dovrebbe essere... Molto bene. Ci dimentichiamo anche di... Cioè, dopo dieci anni che facciamo gameplay ci dimentichiamo ancora di disattivare le notifiche del cellulare durante la registrazione. Ma bravo Fabio! Ma complimenti! Quindi al momento noi non abbiamo alcun tipo di potere. E questo è un altro di quei livelli... Ok, tra l'altro dobbiamo stare attenti a non farci colpire dai passanti. È un altro di quei livelli in cui bisogna, insomma... Affrontare queste sezioni così. Molto bene. Vediamo se riusciamo per una volta tanto a prendere tutto. Ma la vedo difficile perché mi sembra abbastanza complicato. Perché c'è tutta questa gentaglia che ci passa davanti. Ok, qua... Quello era un'arma secondaria e già non abbiamo preso tutte le monete. Mannaggia la puttana. Perché la gente ti sbatte addosso. Ti sbatte addosso e ti fa perdere il filo del discorso. Quindi... Ok, tanto... È bruttissimo il titano. In realtà è un ciclope. Un ciclope. Va bene, non... Ho confuso il ciclone col titano. Va bene, non va niente. L'hai l'ho presa? Sì. Va bene. Bravo, complimenti. Occhio adesso è senza potere. Quindi qualsiasi colpo potrebbe essere fatale. Ma smetti di urlare. Ma cosa stai dicendo? Ma taci un po'. Occhio che c'è la cicciona che passa. Attenzione. Eh, questo non mi potevo prendere perché se c'è la gente che mi sbatte addosso o mi faccio colpire. Tipo adesso. Altrimenti non c'è... Non c'è modo di prendere tutto. Ok. Vieni fuori e affrontami. Certo. Adesso che sono... Messo malissimo. Sicuro. Certo. È ora che non ho i poteri, affrontami. Sì, volevo vedere se mi affrontavi diversamente. Volevo proprio vedere. Ercole, però la voce gli è rimasta. Ercole, quando si cura. Va bene. Attenzione, queste... Non finiremo al 100% di livello. Però quello che riusciamo a raccogliere, raccogliamolo. Perché non farlo qua un potenziamento della vita. Che non la recupera, la allunga solo in realtà. Ok, la R l'abbiamo presa. Ok, anche da questo lato. Attenzione. E qua, se vogliamo prendere tutte le monete per forza un colpo, dobbiamo prenderlo. Ogni tanto, perché altrimenti non si può fare. Ercole. Ah, il primo checkpoint del livello. Quanto è lungo questo livello? Tanto. Ok. Sarebbe bello riuscire a almeno prendere tutte le lettere della parola Ercole. Almeno quello. C'è una roba. Ci curiamo qua. E poi saliamo su dopo. Tra l'altro qua non si può prendere tutto. Perché se prendiamo queste, le altre monete laggiù non le possiamo prendere. Mmm, l'inculata. Quindi bisognerebbe tipo morire, siccome gli oggetti che raccogliamo nel momento in cui dovessimo morire vengono ottenuti, bisognerebbe scegliere un percorso, farsi uccidere, che è per perdere la vita, e salire di qua. Non sono riuscito a salire. E poi passare dall'altro percorso nella seconda run, tra virgolette. In modo da prendere tutto, se vogliamo fare 100%. Perché sono alcune sezioni che possiamo, cioè dobbiamo scegliere, o facciamo un lato o facciamo l'altro. Ok, qua non sono potuto andare, vabbè. Allungamento della vita, peccato che sto per morire. E basta questi passanti, ma basta! Ma quanti siete? Ok, ma quanto è popolosa questa città? Troppo. Eh, sì, sì, ma basta! Ok, abbiamo preso l'AC, prendi questo curativo, e prendi anche questo curativo, che però, penso abbia avuto poco effetto, perché mi ha colpito! Ok, forse lì dovevo... ok, checkpoint. Tra l'altro per l'appunto possiamo fare quello che dicevamo poc'anzi, cioè saltare, passare nell'altra sezione, tipo qua sotto, volendo. Quindi senza volere l'abbiamo fatta questa roba qui. Quindi lì bisognava saltare. Ecco lì, vabbè. Possiamo anche premere su per andare un pelo più veloce, eh, comodo. Di qua non eravamo riusciti a passare, per prendere l'anfora, va bene. E queste non le abbiamo prese prima. Non penso riuscirò a fare tutto al 100%, però proviamoci. Ok, quindi laggiù dove faceva cadere il pavimento bisogna fare attenzione, giusto? Poi è trematuto, si capisce niente. Corriete! Aspetta. Anfora. E... siccome qua cade tutto... Facciamo una roba. F1. Questo dovesse essere che cominciamo da qua. Listo. Te l'ho detto. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Ah, devo premere su. Perfetto. Minchia, trema tutto, dovresti capire dove sto andando. Ho preso anche una moneta, ma non c'è la miseria. Lì ci sono le scalpe per poter andare più veloce, che probabilmente potevano salire per... Ah, cazzo no, c'era la lettera. Volevo prenderla. Aspetta, facciamo una roba. C'è il servizio qua. Volevo almeno prendere tutte le lettere, cavolo. Almeno quello. E quella moneta continua a non prenderla, fantasia. Proprio non mi piace quella moneta lì. Ok, così ho preso la C. Niente, quella moneta non mi piaceva. Non l'ho presa neanche la seconda volta. E qua non ho mancata una, vabbè, fantastico. A suo punto penso che bisognerà prenderle tutte le monete per il 100%. Perché mi sembrava che non fossero esattamente tutte per il 100%. Cioè che se ne poteva anche skippare qualcuna. E la miseria... E la miseria? Dire... Che cazzo si fa a fare sta parte? Basta con questa voce? Eccole! Che sembra che ti stai cagando addosso. Mannaggia la miseria! Ma che cos'è? Ma poi sono lunghi, sì. Non c'è... La pupazza. Cioè... Oh, un checkpoint, mi chiami c'è. Non riuscirò a fare il 100% penso per veramente poco, poco, poco. Ok, potenziamento della life. Va bene. Gente che mi sbatte addosso. Un carro, una vecchia. Ok, altro? Va bene. Qua prendiamo... E c'era la L, ok. Qui potrò scegliere se prendere la L oppure prendere le monete dall'altro lato. Non so, potremmo fare entrambe le cose. Poi se magari queste le prendo anche tutte, ma le facciamo fai. E se no che devi tenere premuto verso il basso e spostarti lateralmente con la freccia, non è semplice. Cioè non è preciso come comando, non è che non è semplice. E adesso qua... No, c'era una moneta qua. Ok, in mente di... Niente che qua possiamo o curarci o prendere le monete. Ma noi prendiamo le monete. Neanche tutte, peraltro. Quindi, perfetto. La E. Vieni fuori stronzo, ho detto? No. No, forse si mi vale io. Ok. Ah, qua potevo prendere. E dai, mannaggia la miseria, la cicciola che mi ha sbattuto addosso. Sono qua. Sono qua. No, no. Cavolo, ho sbagliato. Facciata, molto bene. Ah, dopo facciamo un save state lì vicino. Perché quelle sezioni lì sono a volte problematiche. Sono qua. E' inutile che continui a chiamarmi. Sono qua. Ok. Questo. Moneta. Poi. F1. Perché tra poco c'è di nuovo quella sezione lì. Non che sia troppo complicata e che non voglio rifarla 50 volte, sinceramente. Solo per quello. Solo per quello. E dai, è un po'. Minchia, tra l'altro la vita. Dobbiamo andare a prendere questo curativo della vita. Ecco lei. È proprio lui. È proprio lui. Attenzione. dovrebbe essere qui giusto terza anfora mi pare di avere le prese tutte finora dobbiamo passare da questo lato prese tutte le lettere perfetto non ce la faccio più a sentire questo che urla comunque io ve lo dico mi sta veramente mandando un manicomio siamo arrivati siamo qua siamo qua mio caro ciclote ora dobbiamo affrontarti non lo so probabilmente si me la sognerò di notte eccole basta vediamo completamente a che punto l'abbiamo portato dunque la scritta l'abbiamo completata tutta e quindi già questo va bene sì ottimo lavoro piccolo mi piace andiamo un po' 81 eh effettivamente un po' di monete ne ho mancate e le anforo ne ho prese 3 su 4 io ti mangio la testa ma che sta succedendo l'accordo con ade è rotto aveva promesso che sarei stata salva non hai molto tempo ma puoi ancora fermare ade tu querirai te lo prometto volando contro i titani hercules è uno dei film della disney più belli ed emozionanti che io abbia mai visto veramente stupendo adesso che sto giocando questo lito ho una voglia mattina di rivedermi hercules mi sa che me lo dovrò a rivedere oh ok sezione a bordo di pegaso figo ho altri comandi che posso sfruttare no no solo questi solo la spadata ok però devo fare attenzione ah c'è la spada la spada fiammeggiante questa ce la prendiamo pure aha bellissimo giustamente è tipo shootel potenziamento della vita quindi qua spada fiammeggiante qua prendete tutte le monete non è semplice però ok la H già me la sono presa qua abbiamo liberato una divinità sembra a vedere così penso che si possa affrontare tutto il livello in questo modo perché vedi continuiamo a trovare il refill della della spada della spada del fulmine quindi penso si possa affrontare tutto così il livello molto in stile shooter 2D e ci sta visto che visto quello che stiamo vedendo dobbiamo usare la spada del fuoco oh piano stai calmo stai calmo cacchio e checkpoint very good dai dai figo figo attenzione attenzione qua l cazzo l'H ma sono proprio personale cura ok un'altra cura prendiamola assolutamente l'anfora vieni qua uh la c vista proprio all'ultimo ultimo ultimo non è semplice però questa parte qua perché devi sia affrontare i nemici che evitare queste schegge che partono dal cielo aha ok un'altra divinità liberata e ci rilascia uh roba figo prendi tutto in realtà questo completare al 100% non deve stare per niente facile oh attenzione è qua ah ok a saperlo aspetta 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 ok dobbiamo passare qua in mezzo perfetto eh a saperlo però perché così è intuito non è la faccia oh muro di fuoco preso in pieno ovviamente è tutto giusto bella questa sezione qua un po' ho detto un po' lenta ah sicuramente questo gioco così a vedere cioè dando un giudizio vedendo quello che ho visto finora ha sicuramente una parte iniziale stratosferica che poi va a perdersi eh va un pochino a perdersi andando avanti perché poi diventa una boss rush eh con sezioni come questa che si sono si divertenti ma insomma lasciano un po' il tempo che trovano eh poi anche colpire questi va non succede niente se lo colpisci il limite muore bravissimo sicuramente la parte iniziale è molto più divertente che che il suo proseguimento eh però dai va valutato va valutato nel suo complesso cazzo la U e la L è perse completamente va comunque valutato nel suo complesso non è malissimo dai non è malissimo è invecchiato più che bene ed è sicuramente un ottimo time rispetto alla media dei giochi tratti dai film o dai dai cartoni animati anche recentemente anche recentemente vediamo tante cose che sfruttano delle licenze tanto per sfruttarle che sono veramente imbarazzanti questo è dignitoso è assolutamente dignitoso è invecchiato bene è divertente perché comunque si lascia giocare ok e dai sono curioso di vedere il completamento del livello la S l'ho vista ma troppo tardi l'ho vista ma troppo in ritardo oh finito finito la spada del full avevo finito anche il livello ciao Zeus ho liberato tutti i tuoi i tuoi sudditi ho liberato anche te molto bene e quindi seguendo più o meno la storia del gioco non dovrebbe mancare molto vuol dire che in due parti lo finiamo probabilmente si ok questo io lo ho qua a livello di completamento abbastanza imbarazzante vediamo il completamento di percentuale 57 malissimo malissimo però le anfori le ho prese tutte però tanto un gioco che ancora sfrutta le password in epoca PS1 un po' particolare un po' anacronistico ha sparato i titani nell'universo i corridoi dell'eterno tormento Li ha sparati nell'uragano e via dentro il buio dell'universo Incredibile Bellissimo Un altro livello Però ci state prendendo un po' troppo la mano con questi livelli qua Cioè sono bello uno Ma cazzarola Ovviamente Vuoi non prenderlo quello giustamente Insomma Però questo mi sa che è bello tosto Cioè Troppo Abbiamo capito Bellina questa idea qui Del livello che scorre C'era l'H Facciamo anche un self state Niente niente Hai visto mai che Sai Mica l'ho presa alla fine Mica l'ho presa l'H Cioè ho detto Faccio il passo corto E non riesco a spostarmi lateralmente Se tengo il tasto giù Se tengo il tasto giù Poi non riesco a spostarmi lateralmente Mi sa di tosto Questo livello qua Infatti ogni tanto mi sa che un self state Poi adesso glielo buttiamo Oh Le anime Dannate Ok Tanto ho già perso la H Quindi prendere le altre A poco senso Se non si Per dare un minimo di senso Completamento A poco senso Ok Ok non sto impazzire Saltando da un lato All'altro Tanto il 100% del livello Non lo prendiamo Come vi dicevo Non ho mai iniziato questo Tempile con l'obiettivo Di portare un World Tour 100% Era L'idea di giocare un titolo Che mi mancava Insomma che era nel mio Backlog Da una vita Un titolo che Si può portare a termine Relativamente poco tempo E quindi Perché Perché non fallo Anche no Abbiamo il checkpoint qua Ok Sai Bello è Il gioco Però se possiamo Non rifare sempre Gli stessi pezzi Siccome l'abbiamo appena fatto Ok Prendiamo questo Prendiamo questo Poi intanto Prendiamo un F1 Vabbè Ci ho provato Non ci sono riuscito E ci ho appunto Era l'idea Di recuperare un titolo Che era nel backlog Da una vita Che si può completare In relativamente poco tempo Perché mi sa che in questa parte Già lo finiamo Anzi sicuramente Lo finiamo già E quindi E quindi Ho detto Boh lo gioco Vediamo un po' Cosa ne viene fuori Spero Spero di aver fatto Cosa gradita Ovviamente Ma bravo Ma bravo Eccolo Ma certo Proprio lui Avete finito Di sparare voi? Sì Fate i buoni Su Fate i buoni F1 Sì Non sto a impazzire Con le monete Non sto a impazzire Con le monete Va bene Scalpe Ipervelocità Sì Distruggiamo tutto E Badabum Anfora Grazie per la spadata A buon render Mio caro A buon render Mio caro Andiamo di qua Non so per quale motivo Mi intrigavo Andare da questo lato Ho checkpoint Quindi non devo fare Un save state qui Eccolo No Volevo prendere L'allungamento Della vita Vabbè Pazienza Tutto questo Per un completamente Al 100% Che non stiamo inseguendo Quindi Perché Rammaricarsi Va bene Anche così La C Ok Infine abbiamo mancato Solo l'H Che era all'inizio Peraltro Quindi si potrebbe Prendere in maniera Abbastanza facile Però basta Ma serio Ma serio Va bene Eccola Per lui Questa volta L'ho presa Ma Amen E questo qua Però effettivamente È tosto Questo è tosto Ok Qua abbiamo preso Un po' meno danni Rispetto a prima Per fortuna Ah Qua cadono le piattaforme Ok Attenzione Moneta 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 Vita No Non l'ho presa Cazzo La Uh Potevo fare quasi tutto Finora Cioè L'H So dove era Potevo fare tutta la parola completa Peccato Peccato E State calmi Che non ho Non ho tutta questa voglia Di perdere tempo con voi Ok Checkpoint Queste cadono Sì Occhio Piano 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 Dai Dai Su C'erano le anime dannate Attenzione Tanto qualche pazzata Me la riescono a dare lo stesso L Ok Tosto Però è tosto questo Voglio dire abbastanza tosto Al suo perché Roba già vista Ma al suo perché Non sono riuscito a prendere Il cazzo Ecco Per fortuna Non mi toglie mai Troppa vita Quindi in realtà Si può fare In maniera abbastanza tranquilla E curativi Se ne trovano A bizzefe Quindi Non è un problema La E Cazzo Potevo fare tutta la parola Al cento per cento Non mi interessa Anche la percentuale del livello Mi interessa quanto più I collezionabili Del livello Le lettere Ok Qua Un F1 Glielo buttiamo Per sicurezza Solo per non dover rifare Le sezioni Solo per Quello Niente di Niente di No Lì bisognava Fare lo scatto Ovviamente Ok Ce l'abbiamo fatta Non è facile Questo punto qui Tengiamoci un po' Il sicuro No la S Dai l'ho vista Di qua Serviva a niente Questa roba qua Serviva assolutamente a niente Però la volevo prendere E Ok Detto questo Dovremmo esserci Ci dovremmo essere Peccato Peccato per quella Cavolo di H All'inizio Che non sono riuscito a prendere Ok Completamento Non l'ho anche guardato Tanto sicuramente L'avevo fatto malissimo A te piacciono i patti Prendi me Al posto di me Il figlio Del mio odiato rivale Intrappolato per sempre Nel fiume della morte Conto Uno Dov'è la fregatura? Due Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Tirala fuori Lei va Tu resti Vortice di anime Dov'è la fregatura? Ovviamente non mi Questa parte del film Non me la ricordo Ah no Sì me la ricordo Sì cazzo Adesso mi è venuto in mente Bene Quindi dovremmo essere veramente Ma è possibile che sia la parte finale questa? Possibile? Aspetta Dove sei Ade? Ok Sì devo sconfiggere Ade Ma scusa Possibile che Possibile che sia la parte finale già Sono già alla fine del gioco Cazzo ho dovuto No Devo cercare di tenerlo sempre sotto scacco Per evitare Perché ogni volta che lo colpiamo Lui blocca l'azione che stava facendo Solo che Non è semplice Perché tipo adesso lui se ne è andato su di là Ah però tra l'altro mi toglie un sacco di vita Dovrei fregarmi delle monete Stare semplicemente sotto lui Però cazzo questa mi serve Ricordiamoci che io ho anche Questa abilità dell'invincibilità Che posso Sfruttare Ok Quanto io ho tolto? Ah mezza vita Sì Proprio così Prendila questa Ok I quadre No Non colpirmi Eh questa la devo prendere Non potrai mai vincere E nel momento in cui mi devo staccare per prendere il curativo Lui ha tutto il tempo di compiere il suo attacco E mi fotte Anche a cazzottoni ti posso prendere volendo Sì mi sembra particolarmente temibile comunque Questa me la potevo evitare Potevo continuare ad andare ad attaccare Non serviva niente Stare qua A impazzire Ok E sei andato La partita è finita Ma serio? Cioè questo era il boss finale? Fammi capire Non lo so eh Cioè vado così a A intuito Cioè questo era il boss finale Abbiamo finito il gioco Potrebbe essere Siccome non l'hanno mai finito Quindi potrebbe anche essere Completato al 57% Vabbè certo L'ho solo affrontato tanto per finirlo E lo vediamo subito Oh sì Fiori per tutti Ottimo lavoro figlio mio Ce l'hai fatta Sei un vero eroe Perché un vero eroe Non si misura dalla forza dei suoi muscoli Ma da quella Del suo cuore Ah che bello Il bel messaggio finale Peraltro tutte scene prese dal film Ma montate molto nette Cioè stacchi improvvisi Un po' di Un po' di armonia Non avrebbe guastato Nel confezionare questo titolo Però Boh Mi è finito il titolo Pensavo Durasse leggermente di più In realtà In un Meno di due ore L'abbiamo finito E Ci sta Ci sta Alla fine Alla fine Mi mancava questo titolo da giocare L'ho recuperato Non mi è dispiaciuto Sicuramente la parte iniziale è molto più interessante che non il suo proseguimento Però Tutto sommato Insomma Non mi sento di timbrare il titolo come deludente Anzi È un titolo invecchiato sicuramente bene Che ha dei lati positivi È divertente È una pietra migliare dei Tain dell'epoca È insomma Sicuramente un titolo PS1 da recuperare E peraltro anche originale Per il PS1 si trova a niente A 10 euro Quindi Ve lo consiglio caldamente Quindi Ragazzi Niente Io Per questo mini gameplay Praticamente Se lo possiamo nominare così Direi che è tutto Io come sempre vi ringrazio Per aver visto questo video Mi invito a mettere un mi piace A commentare A condividere il video se vi va A iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Tanto è assolutamente gratuito E a seguirmi su tutti i vari social Di cui trovate i link Qua sotto in descrizione Noi ci salutiamo E ci vediamo nei prossimi giorni Con l'inizio di una nuova serie Quindi Alla prossima ragazzi Bye bye Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi